Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. 4 aprile, buongiorno. Apertura dedicata alle donne oggi, con due tematiche sempre d'attualità. La difficoltà di interrompere una gravidanza in Italia e l'eterno dramma della violenza maschile sulle donne. Di aborto, scrive Fran Saint-Faux, in un articolo dal titolo In Italia l'aborto è legale ma non sempre accessibile. Se noi, attacca il Tg francese, lo scorso 8 marzo abbiamo inserito il diritto all'aborto in Costituzione, nella vicina Italia resiste, anzi si consolida, l'anacronistica e pericolosa clausula della coscienza. In Italia, come le donne denunciano in ogni manifestazione, il 63% dei ginecologi che lavorano nelle strutture pubbliche rifiutano di effettuare interruzioni di gravidanza, citando la questione della coscienza, ovvero il rifiuto di compiere determinati atti richiesti da un'autorità quando si giudica che contraddicano intime convinzioni di natura religiosa, filosofica, politica, ideologica o sentimentale. Praticamente, ginecologi, ostetrici, infermieri, che possono non partecipare agli interventi di interruzione della gravidanza e non ci partecipano, senza per questo essere sanzionati. Immaginate, scrive ancora l'articolo, una giovane donna con un lavoro precario, è incinta, deve comunicare chiedendo, deve cominciare chiedendo un certificato medico che può essere rifiutato. Poi, se tutto va bene, lo otterrà, non prima di aver atteso sette giorni, dopodiché troverà un ospedale che alla fine le dirà che lì nessuno pratica l'aborto. Meloni, conclude il servizio, ha sempre detto che lei, la legge 194, non la toccherà e sembra abbia realmente intenzione di non toccarla. Tanto che bisogno c'è di cancellarla con la via crucis che si impone già oggi alle donne italiane. L'Italia punta sul teatro per contrastare la violenza maschile sulle donne. Questo è invece il titolo del sito americano Truthdig, che spiega come il teatro e il cinema italiano puntino i riflettori sulle cause profonde della violenza di genere, proponendo soluzioni a livello culturale. Nel caso specifico, la recensione si riferisce all'opera teatrale Le Spose di Barbablu, portata in scena da Antonio Guadalupi. Barbablu è la storia di un ricco uomo d'affari che uccide le sue sette mogli, nascondendole nel semi-interrato di casa sua. Una storia che, bene o male, tutti abbiamo conosciuto. In questo spettacolo specifico, interpretato da Guadalupi, ma ideato e condotto da Paola Leone, la settima moglie di Barbablu sfida l'ordine del marito di non andare a curiosare nelle stanze della villa e lì trova i cadaveri delle altre sei che l'hanno preceduta. Vittime che tornano a perseguitare Barbablu nel giorno del suo compleanno e discutono della sofferenza loro inflitta. Indossando una lunga gonna bianca sotto il torso nudo, Guadalupi cammina lentamente sul palco, scrive l'articolo sotto le luci fioche, assieme a altri sei uomini vestiti con lo stesso abito surreale e ognuno dei quali dà voce alla storia di una donna che è diventata vittima di una violenza di genere in Italia. Fino a qui è già tutto molto interessante. Sul palco finiscono di volta in volta tante protagoniste della nostra cronaca nera più recente, ma la cosa che leggo in questo articolo e che trovo più interessante e innovativa è che gli altri sei attori coprotagonisti non sono dei professionisti. Cambiano ogni settimana e sono gli allievi di un laboratorio permanente durante il quale hanno scelto personalmente la loro storia di donna da raccontare. Uomini costretti in questo modo a confrontarsi con gli stereotipi di genere che inevitabilmente ognuno di noi porta dentro di sé. Non so dirvi dove e quando vederlo l'articolo americano non lo scrive, intanto però ritenevo importante informarvi che all'estero si parla di noi anche per iniziative lodevoli come questa. Poi se capiterà di vedere lo spettacolo in un qualche cartellone programmato magari ci possiamo andare. Lo spettacolo si intitola Le Sette Spose di Barba Blu. Sguardo veloce ora sulla politica. Ne abbiamo parlato qui molte altre volte ormai. Non passa giorno che qualcuno non si accorga dell'ottima performance economica del governo italiano. Ne parlò tra i primi il Financial Times, un paio di giorni fa citavamo la Deutsche Welle, oggi, e mi fermerò al titolo, cito il rumeno Business Magazine che titola Europa a due velocità ma non come immaginava Berlino. la fantastica crescita economica nell'Europa meridionale eclissa completamente la Germania. La locomotiva dell'Europa corre con il freno a mano tirato dell'ultima crisi, mentre Portogallo, Spagna, Grecia e Italia aggiungono 200 miliardi di euro ai loro pil. sempre politica, tema ricorrente, anche questo le pirouette di Matteo Salvini. Agenzia Reuters, titolo, la Lega italiana sconfessa l'accordo con il partito al governo in Russia. L'accordo è quello quinquennale tra Lega e Russia Unita, il partito di Putin. Accordo, sottoscritto nel 2017 e automaticamente rinnovato nel 2022. Ora però Salvini lo sconfessa. Da socio di governo, prima con Draghi, oggi con Meloni, ha partecipato a ogni tipo di sanzione contro Mosca e a ogni tipo di aiuto armi comprese a Kiev. E quindi oggi il leader della Lega, solo da oggi, dice che quell'accordo non è più valido. Dicarazione che tuttavia non lo ha salvato dalla mozione di sfiducia in Parlamento. In Italia crescono le imprese di proprietà degli immigrati. Lo scrive Info Migrants, quotidiano paneuropeo, spesso presente in questo podcast, specificando che le province d'approdo e le preferenze settoriali dei lavoratori migranti differiscono a seconda delle loro nazionalità. A Viterbo, Torino, Cremona prevalgono i rumeni. A Prato, Fermo e Firenze e i cinesi, naturalmente ragionando sempre a livello di imprenditori, scopriamo anche che soprattutto marocchini, cinesi e rumeni hanno chiare preferenze settoriali. I marocchini soprattutto nel commercio e nei trasporti, i rumeni nel settore edile, i cinesi nel settore manifatturriero, ricreativo e della ristorazione. Alla fine del 2023, conclude l'articolo al registro delle imprese della Camera di Commercio italiana, risultavano iscritte 660.000 imprese straniere, l'11% circa del totale delle aziende italiane, cifra aumentata del 2% rispetto al 2022 e del 7% rispetto al 2019. E rimanendo in tema di imprenditori stranieri che fanno fortuna in Italia, su molte testate stranieri in questi giorni ho trovato raccontato la storia, come riporta anche la CNN, di, virgolette, questa coppia americana che si è trasferita in Italia per aprire un tipico ristorante americano in un piccolo paesino dell'entroterra. Loro sono Shannon, sciarretta americana della Florida, e suo compagno Felipe da Silva, brasiliano del Rio Vermeglio, e per aprire il loro locale hanno scelto Santa Domenica di Talao, piccolo centro calabrese, vicino al mare, poco al di sotto di Maratea, quindi poco al di sotto dell'ingresso in Calabria. E la sorpresa per i calabresi non è tanto che i proprietari del Fig Cafè siano americani, quanto che servano cibo americano in questo localino sulla piazzetta. E dagli involtini di Aragosta in stile Cap Cod, ai panini Ruben, alle ali di pollo, tacos e burritos, tutto va a meraviglia e ci mancherebbe. Non ci siamo trasferiti qui per isolarci dal mondo, ha detto Shannon all'inviato della CNN, ma al contrario per fare crescere nostra figlia in Italia e per integrarci veramente. Lei, di cognome come vi ho detto, fa sciarretta e lo deve al nonno che era originario di Minturno. Oltretutto l'università lei l'ha fatta a Roma e dice che oltre alle specialità tipiche da bar che di tanto in tanto ruotano in questo menù cambiando, a novembre hanno avuto la grande pensata ed è stata la pensata di successo di fare la festa del ringraziamento che fuori dal periodo turistico hanno organizzato per tutto il paese. Al volo, prima di chiudere, dal rumeno G4 media di Bucarest apprendo che 38 anni dopo Cernobile scompaiono completamente le tracce radioattive dai funghi delle Dolomiti che finalmente l'allerta è finita. Le specie di funghi più ricercate, parola della locale azienda sanitaria, non presentano più un contenuto di radiazioni superiori alla media tollerata raggiungendo nella stragrande maggioranza dei casi valori prossimi allo zero cesio 137 0 anche se restano altini cadmio e piombo. Ancora una volta sottolinea l'articolo ma però ricordato che i funghi selvatici oltre a dover seguire un accuratissimo processo di identificazione per escluderne la tossicità vanno sempre consumati con cautela molto saltuariamente e in quantità moderate sempre da preferire i funghi coltivati gli altri limitiamoci a guardarli nelle nostre passeggiate e a chiudere proprio c'è la notizia della nuova passeggiata pedonale attraverso millenni nel cuore di Roma la riporta Euronews e si tratta del progetto presentato dal sindaco della capitale Gualtieri e dal ministro San Giuliano per un nuovo percorso pedonale dentro il foro romano calma il gesso però c'è tempo per il momento è stato scelto il progetto fra i 23 presentati in un concorso internazionale un progetto ha detto Gualtieri pensato per avvicinare a romani e visitatori l'immenso e unico patrimonio culturale e archeologico il progetto ha un budget di 18 milioni di euro per ora e speriamo che facciano presto vi saluto amiche e amici vi aspetto domani ristretto italiano di Ruggero Po di Ruggero Po